partecipiamo perché sicuramente una vetrina importante per noi aziende di agrofarmaci agronutrienti e anche perché in questo modo possiamo far conoscere alle aziende agricole interessate i nostri formulati specifici per l'uva da tavola in particolare abbiamo varie soluzioni che riguardano sia agrofarmaci che agronutrienti come diachem in particolare a quest'oggi ci soffermeremo su iron 4 prodotto a base di ferro zinco e manganese con una speciale formulazione che permette così di correggere le clorosi per l'uva da tavola nel periodo della ripresa vegetativa ma parleremo anche di atonic uno speciale fitoregolatore di nuova introduzione di recente registrazione a base di tre nitrofenoli che permette di avere un ingrossamento degli acini e una riduzione nei tempi di acinellatura dell'uva da tavola